In vista della chiusura delle iscrizioni del 31 gennaio, che cosa consiglia la città metropolitana alle famiglie e agli studenti? Sì, allora siamo quasi in dirittura d'arrivo, sicuramente sono state tante le iniziative che sono state fatte dalle scuole, ma anche dalla città metropolitana, dai comuni, attraverso i saloni di orientamento, ma ricordiamo che gli studenti vengono seguiti già dalla seconda media per poter fare questa scelta importante per loro in un'età ancora complicata, sono insomma tanto giovani questi ragazzi, quindi comprendo il perché le famiglie spesso abbiano difficoltà e cerchino di lavorare insieme ai loro figli per questa scelta, però dicevamo ci sono ancora dei giorni e quindi consiglio a tutti coloro che hanno ancora dei dubbi di provare comunque ad andare agli appuntamenti previsti dalle scuole, degli open day perché è un conto e decidere comunque l'indirizzo, è un conto e definire esattamente l'istituzione scolastica nella quale i studenti possono poi recarsi. Consiglio comunque sempre di inserire le tre possibilità perché è possibile che in alcuni momenti determinate scuole siano poi nella impossibilità di ricevere tutte le domande e quindi è importante sempre avere le tre alternative affinché poi le famiglie possano comunque scegliere una seconda o una terza opportunità. Ci sono dei colloqui individuali ancora che possono essere svolti dalle famiglie e dagli studenti attraverso gli sportelli di obiettivo orientamento Piemonte ne abbiamo una settantina in tutta la città metropolitana, quindi praticamente in quasi moltissimi dei comuni grandi della nostra ex provincia e quindi consiglio a chi ha ancora dei dubbi di recarsi negli sportelli previ appuntamento perché questa potrebbe essere anche un'altra opportunità. E comunque ricordatevi che i vostri figli spesso non dicono magari che cosa vogliono esattamente fare nel futuro ma forse anche un po' lo sanno, quindi cercate soprattutto voi genitori di mettere in luce queste richieste dei ragazzi perché io credo che la prima cosa, la cosa più importante è che loro quando varcano la soglia di una scuola si sentano come a casa loro.